No, avrei sognato un bel 12 punti, senza neanche un infortunato, però non è successo. Abbiamo 5 punti, siamo tornati alla vittoria, anzi abbiamo iniziato a vincere la prima partita in campionata, abbiamo vinto in Champions. Da due partite non subiamo gol, domani dovremo cercare di continuare su questa strada, sapendo che non è facile, giocheremo contro un'ottima squadra, una squadra che alla fine lotterà per il titolo, nel suo nuovo stadio. Quindi sicuramente domani sera è una partita anche a livello ambientale e soprattutto a livello ambientale, dovremo essere molto preparati perché troveremo una Juve, oltre che con grandi stimoli personali, sicuramente ci avrà un apporto del pubblico di questo nuovo stadio, di questa partita che ha grande importanza.